L'Arlef lancia un progetto finanziato dall'Europa per sviluppare l'uso del friulano nella pubblica amministrazione. Oggi il primo incontro. Parte oggi un progetto organizzato dall'Arlef e finanziato dall'Unione Europea per lo sviluppo della lingua friulana nell'ambito della pubblica amministrazione. Ce ne pare la Presidente dell'Arlef, Eros Cisilino. Di cosa si occupa questo progetto? È un progetto estremamente importante che vede il sostegno dell'Unione Europea tramite un progetto Interreg, un sostegno appunto finanziato dall'Interreg Italia-Slovenia e ha come partner diversi soggetti importanti tra cui l'Università di Ljubljana ma anche diverse aree importanti del governo sia sloveno e anche croato. La questione importante è quella appunto di poter divulgare la possibilità di utilizzare lingue minoritarie o comunque lingue locali che sono riconosciute dai nostri stati e queste lingue minoritarie vengono utilizzate appunto nella pubblica amministrazione non solo per livelli burocratici ma soprattutto per livelli legali. E quindi il fatto di potersi confrontare, poter raggiungere ecco un livello di possibilità per l'utenza ottimale nell'utilizzo appunto di queste lingue è per noi fondamentale ed è un grande punto di riconoscimento da parte dell'Unione Europea. È una sorta di professionalizzazione della lingua friulana anche negli ambiti lavorativi pubblici? Assolutamente sì, è un percorso che abbiamo iniziato ormai da anni ma che trova coronamento in questo progetto che tra l'altro vedrà un momento di confronto e di esposizione dei dati a Capodistria al mese di ottobre.